Ti capita di sentirti a disagio perché magari sei in sovrappeso e questo ti porta a coprirti di più o a isolarti per timore del giudizio degli altri? Non ti senti accettato pienamente nei contesti sociali in cui vivi? Ti senti poco appetibile fisicamente e questo ti impedisce di vivere una relazione sentimentale felice o addirittura di intraprenderne una? Nonostante il passare degli anni vorresti sentirti ancora piacente ed indossare la stessa taglia di quando eri più giovane? Attenzione! Trovare o ritrovare la tua forma perfetta non è solo una questione estetica ma è prima di tutto una questione di salute. In questo video e negli altri che trovi sul mio canale youtube.luciapremdacostucci puoi notare come è cambiata la vita di chi ha fatto su questo concetto indipendentemente dall'età ed ha agito recuperando il sorriso, amore per si stesso, energia, vitalità, autostima, sicurezza personale affidandosi a un protocollo personalizzato che non lascia niente al caso. Non ti ruba altro tempo, guarda il video, metti un like e attiva le notifiche. Praticamente io nell'età del 20-25 anni sono sempre stata una 42-44, comunque era una ragazza formosa, non ero magrissima, però mi sentivo sempre bella. Poi con le gravidanze ho avuto due bambine, una di 12 e una di quasi 9 anni e ho messo su chili su chili. Poi sono arrivata a conoscere la dottoressa Lucia Premendacostucci dove abbiamo deciso di fare un percorso di dieta tra virgolette o anche meglio un'educazione alimentare e lei mi ha insegnato come mangiare e cosa mangiare e piano piano abbiamo perso la bellezza di 15 chili in solo tre mesi mangiando. Ecco, all'inizio avevo paura perché lavorando e avendo comunque tempi stretti lavorando, famiglia, figli, spesa, cose varie, noi mamme cerchiamo di mangiare veramente velocissime o delle volte anche saltare proprio i pasti non mangiando neanche e io sono testimonianza che delle volte non mangiavo, mangiavo una frutta, una cosa, magari arrivavo la sera, mangiavo il piatto di pasta senza mettere altra roba che magari mi avrebbe aiutato nel mangiare e comunque sono arrivata che con la dottoressa, con tutte le ricette che mi aveva dato mi sono organizzata, ho cercato di organizzarmi all'inizio con tanta fatica perché non è facile per una che mangia quel che trova nel frigo, apre il frigo, vada a mangiare, mangia, non è facile come sapere cosa mangiare la mattina, pranzo, la sera e all'inizio dico la verità è stato un po' non tanto semplice, un po' faticoso però poi è andato tutto, anzi mi sembrava un sogno perché dicevo ma era così facile, cioè non capivo come mai ero passata da un limite all'altro e ora sono contenta, continuo questo percorso perché mi piace tanto. Consiglio questa educazione alimentare, questa dieta della dottoressa Lucia Premendo Agostucci perché per me non è stato quel percorso che magari uno ha fatto, ho provato anche altre volte a fare delle diete ma non ho avuto quella fame, quella stanchezza, quella senza energia arrivare fino a giornata e non farcela, sono sempre stata comunque piena di energia e ho avuto sempre voglia di fare tanto e di uscire anche la sera che magari prima dicevo no non ce la posso fare perché non so cosa mangiare, invece ora è tutto un altro percorso che comunque ti butta anche fuori di uscire con gli amici, con le amiche, con i bambini, con tutti.